Siamo con Marco di Villa D'Amelio di Benevello. Cosa ti aspetti dal blog Le Stelle si incontrano? Senz'altro un'occasione di incontro e di dibattito, un'occasione per ampliare la discussione, la ristorazione di fascia alta, non necessariamente di fascia alta, sia per gli addetti ai lavori e non, un'occasione per confrontarsi. Grazie mille. Grazie mille.